Parliamo di valvulopatie cardiache. Nella fattispecie le stenosi valvolari che sono impedimenti al flusso anterogrado e insufficienze valvolari che sono invece perdite di continenza valvolare con reflusso. Minime insufficienze soprattutto negli anziani sono praticamente patologiche. La prevalenza del problema aumenta con l'età. Per quanto riguarda gli esami obiettivi e l'anamnesi da fare in questi pazienti cominciamo subito con l'ispezione del torace che segue ovviamente alla solita valutazione clinica. L'ispezione si basa sulla valutazione dell'espansione dell'emitorace sinistro. Se lo sterno è incavato sapremo già che i toni li riusciremo a sentire più forti. Guardare la facces del paziente è fondamentale perché soprattutto la facces mitralica è patognomonica di alterazioni mitraliche. Quindi il paziente ha la punta del naso, le guance, le orecchie di colore rosa viola quindi soprattutto appunto nella stenosi mitralica. Ovviamente grande importanza ha la palpazione ma prima ancora l'auscultazione. La palpazione viene fatta con la mano a piatto per valutare le espansioni del torace poi con due dita si circoscrive meglio l'area. Sento sollevamenti, fremiti. La palpazione viene fatta quindi con la mano a piatto e se noi abbiamo l'itto spostato a sinistra avremo una dilatazione sinistra oppure potremo sentire una dilatazione del ventricolo destro se abbiamo un movimento verso la parasternale. Il movimento paradosso può essere indicativo di aneurisma del ventricolo sinistro. Molto importante infine anche la valutazione del polso carotideo. In particolar modo valuteremo nella stenosi aortica il cosiddetto polso tardo mentre nel rigurgito, nell'insufficienza aortica fondamentalmente, avremo un polso collassante. Molto importante anche la valutazione del polso venoso giugulare. Il paziente a 45 gradi il polso non dovrebbe superare in alto 4-5 cm la clavicola però se succede allora ha un'insufficienza, un aumento del circolo del ristagno periferico. Individuiamo un'onda A di contrazione atriale, un'onda C di contrazione ventricolare e una onda V di riempimento atriale. In caso di ipertensione polmonare tali onde sono più alte perché ovviamente c'è una maggiore stasi a monte. Cosa dobbiamo dire ancora per quanto riguarda l'esame obiettivo? Ovviamente la auscultazione. La punta del cuore viene auscultata sull'emiclaveare nel quinto spazio intercostale sinistro. Le aree di auscultazione. La mitralica coincide con l'itto della punta, quindi dal quinto spazio intercostale arriva fino all'ascella. La tricuspidalica invece viene sentita praticamente all'apice, insomma, la parte centrale dell'apofisi xifoide. La polmonare viene sentita dal secondo al quarto spazio intercostale lungo la sinistra dello sterno, mentre la ortica viene sentita al secondo spazio intercostale a destra dello sterno, fino alla punta del cuore. Ovviamente molto importante in tutto questo sarà l'irradiazione. Posto questo parliamo delle patologie principalmente e cominciamo subito con l'insufficienza mitralica, anche detta rigurgito mitralico, che tra le varie cause ha un 60% di problematica su base degenerativa, ma molto importante è anche la malattia reumatica e la forma endocarditica. Inoltre abbiamo forme congenite di prolasso mitralico e grande importanza assume la patologia ischemica, soprattutto nel caso in cui colpisca il muscolo papillare con insufficienza della valvola. Ovviamente molto importanti saranno anche le cardiopatie dilatative, quindi endocardite, malattia reumatica, problematica degenerativa, ma molto importante è anche la cardiopatia ischemica e la forma dilattativa del ventricolo. Ora, si aggiunge a questo anche una serie di altre problematiche, fra cui il mixoma, la presenza di traumi e amiloidosi. Che sintomi darà l'insufficienza mitralica? Fondamentalmente saranno derivati dal rigurgito, quindi saranno proprio sintomi di scompenso sinistro, a bassa cittata, dispnea, ortopnea, fibrillazione atriale, tosse, emottisi. Quindi in acuto potremmo arrivare anche ad avere un dolore cardiaco e lo shock. Molto importante è l'auscultazione. Noi possiamo sentire un soffio che è appunto pansistolico, che si irradia praticamente all'ascella ed è indicativo del reflusso. È meglio udibile posteriormente. Gli indici di severità quali sono? L'itto appunto spostato verso l'ascella, indicativo di questo continuo rigurgitare e riempire il ventricolo. La fibrillazione atriale per dilatazione atriale dell'atrio da stasi, dal rigurgito. E infine il soffio sistolico, nonché il terzo tono. Quindi soffio pansistolico e terzo tono. Queste sono le cose più importanti. All'ECG cosa avremo noi? Dei potenziali alti. All'Rx dorace il cuore sarà visibilmente dilatato a sinistra e all'ecocardio vedremo proprio la dilatazione ancora meglio, così come il muscolo papillare. L'entità del rigurgito, oltre che con RX, ecocardio può essere valutata anche con il Doppler. La storia clinica si basa su tre fasi. Nella fase 1 abbiamo una frazione di eiezione e dimensioni del cuore che sono normali, mentre nella fase 2 si scompensa la dimensione cardiaca, ma la frazione di eiezione è conservata. Nella fase 3 abbiamo proprio una disfunzione anche in termini di frazione di eiezione, quindi è tutto alterato. La terapia che viene a essere fatta è una terapia a base di betabloccanti, di diuretici, di warfarin, si può fare anche la digossina per il controllo della fibrillazione atriale, questa è la cosa più importante. La riparazione della valvola costituisce invece sicuramente un trattamento chirurgico, viene fatto con la plastica restringendo l'anello valvolare, oppure si sostituisce la valvola mitrale con una valvola protesica, però la durata è una durata che è predefinita, insomma, con valvola protesica che dura più della biologica, la quale dura circa 5-7 anni. E infine abbiamo la mitral clip, che è praticamente utilizzata soprattutto per le insufficienze legate a dilatazione ventricolare, quindi è una valvola che tiene insieme i due lembi, la infiliamo praticamente nel ventricolo sinistro tramite catetere, quindi facciamo un transventricolo, un trans settale, insomma, e mettiamo questa clip a livello dei due lembi valvolari che impediscono quindi l'apertura importante della valvola stessa. Se abbiamo parlato di insufficienza della mitrale, adesso parliamo di stenosi mitralica. La stenosi è basata su un dato da malattia reumatica nel 99% dei pazienti, è una malattia che colpisce questa le articolazioni, dà febbre, due terzi dei pazienti hanno sesso femminile, sono giovani. Il restante 1% delle cause è fondamentalmente congenito, quindi può essere da deposito di calcio o da endocardite, soprattutto in pazienti tossicodipendenti. Le conseguenze? Allora, in atrio sinistra ovviamente c'è una stenosi, vuol dire che aumenta il gradiente pressorio atrioventricolare, quindi l'atrio va incontro a una dilatazione, se si dilata va incontro ovviamente come conseguenza, a fibrillazione atriale, formazione di trombi, con problematica da embolismo sistemico. L'ipertensione polmonare è un'ulteriore conseguenza a ciò, perché il sangue ristagna a livello polmonare e chiaramente sarà tanto maggiore tale ipertensione, quanto maggiore sarà il grado della stenosi. Ovviamente questo determinerà poi con il tempo uno scompenso cardiaco destro, si parla praticamente di tricuspidalizzazione della stenosi mitralica, il che significa che avremo un rigurgito tricuspidale alla lunga, con insufficienza stasi periferica, quindi edemi periferici, epatomegalia, turgore delle giugulari, scomparsa della dispnea, perché ovviamente non c'è più l'efficienza del ventricolo destro, quindi è uno scompenso cardiaco congestizio. Inizialmente l'ipertensione polmonare è passiva, però abbiamo detto che col tempo si va proprio incontro a fibrosi e la problematica diviene attiva. Quali sono i sintomi dello scompenso? Quelli che abbiamo già detto sono i sintomi della stenosi, cioè quelli dello scompenso, stendia, palpitazioni, dispnea, tosse, eccetera. All'esame obiettivo è importante ricordare la faccia smitralica. Con la palpazione arriviamo a sentire il ventricolo anche destro se il disturbo si è tricuspidalizzato, quindi sentiamo, se abbiamo una ipertensione polmonare, si ha addirittura questa ipertrofia ventricolare destra con sollevamento nel quarto spazio intercostale a sinistra dello sterno. L'auscultazione, come reperti, ci dà un primo tono di aumentata intensità per un maggiore impatto nella chiusura e poi abbiamo il cosiddetto opening snap che è uno schiocco d'apertura che è di fatto aggiunto. Poi in sistole cosa succede? Abbiamo un soffio presistolico perché è praticamente dato dal sangue che si incunia in questa stretta apertura, in questa stenosi. Ricordiamo che l'apertura è anche di 4 cm, noi con la stenosi severa arriviamo a 1 cm e anche meno. Comunque nel complesso l'auscultazione viene fatta al quarto quinto intercostale, come abbiamo già detto altre volte. Per quanto riguarda la diagnostica, abbiamo l'ECG che ci fa vedere praticamente l'ipertensione polmonare tramite l'aumento dell'ampiezza nelle derivazioni destre. L'RX torace ci fa vedere il cuore ingrandito, in particolar modo l'atrio di sinistra dilattato con dilattazione anche del tronco polmonare per l'ipertensione polmonare. A livello dell'eco vediamo tutti quelli che sono i reperti della malattia reumatica, quindi anche l'aumento di spensore, vediamo anche i trombi dell'atrio, le vegetazioni endocarditiche. Le complicazioni le abbiamo già dette, fibrillazione, atriale, tromboembolismo e ovviamente scompenso cardiaco congestizio con edema polmonare ovviamente. La terapia consta anche questa di diuretici, beta bloccanti, digossina per la frequenza. Inoltre abbiamo molto importante la terapia anticoagulante, e questo ovviamente a base di dicumarolici. La terapia può anche essere chirurgica e nella fattispecie se la stenosi valvolare è severa, cioè sotto un centimetro, allora l'intervento può essere fatto con valvolo plastica, con misurotomia oppure sostituzione valvolare. La valvolo plastica è semplicemente tramite un catetere in atrio, facciamo un transettale, infiliamo il catetere dall'alto nella valvola mitranica e gonfiamo il palloncino e dilatiamo la valvola. Però qual è il problema? Che si può passare da una stenosi a un'insufficienza oppure che il problema può recidivare. La commissurotomia è un intervento che viene fatto in minitoracotomia, praticamente si tagliano concrezioni e il problema qui è a rischio di recidiva. La recidiva ha anche un flusso alterato, con accumulo di calcio, materiale trombotico, infiammazione, quindi in generale qui si parla di sostituzione valvolare. L'insufficienza aortica, l'abbiamo detto, principalmente è data da degenerazione della valvola, nel 50% dei casi, una minima parte può essere anche data da endocardite, però grande importanza assumono patologie come la malattia reumatica, di cui abbiamo già parlato, il marfan, le collagenopatie in generale, tra cui anche le Heller-Danlos, la valvola bicuspide congenita. Perché è importante? Perché determina ovviamente uno slargamento dell'anulus valvolare. Stesso discorso per quanto riguarda l'ipertensione, la sifilide, gli aneurismi dell'aorta ascendente, insomma, in generale tutte queste patologie, appunto soprattutto l'ipertensione e la sifilide, danno una dilattazione dell'anulus aortico e quindi ovviamente insufficienza aortica. Il sangue iettato cosa fa? Rientra in ventricolo e quindi aumenta la differenziale, perché il cuore fino a una certa compensa, però in fase diastolica, con il rigurgito, la pressione crolla. Si parlava di polso collassante. I sintomi sono dolore toracico, quindi angina, dispnea e ortopnea, nonché dispnea parossistica notturna, però angina e dispnea. Questo ci permette di differenziare l'insufficienza dalla stenosi, che è invece caratterizzata da sincope come sintomo. All'esame obiettivo l'insufficienza avrà un itto che è palpabile in basso a sinistra, quindi si sposta per il peso, e si avrà un fremito diastolico. Perché? Perché all'auscultazione viene fatto sul quarto spazio intercostale a sinistra col paziente seduto in avanti, per sentire meglio. Qui abbiamo rumore diastolico, quindi un rullio diastolico increscendo, perché ovviamente il sangue precipita verso la valvola aortica, che non si chiude bene e rientra in ventricolo. Quindi c'è più sangue iettato in sistole, perché c'è quello da riempimento atriale e da rigurgito, e quindi si ha poi all'eiezione un soffio protosistolico rude, dato proprio da questa forte contrazione cardiaca. Le cc cosa ci mostrano? Ovviamente questo continuo rigurgito, questo compenso contrattile del cuore, darà un'ipertrofia ventricolare sinistra, quindi noi vedremo potenziali aumentati e l'inversione dell'onda T. In ultima analisi, molto importante, è anche fare la valutazione eco, soprattutto appunto in questo la valutazione con l'ecodoppler, e la storia naturale ci dice che la malattia diventa sintomatica, determinando un aumento della mortalità del 10%. Terapia può anche essere farmacologica, e finora abbiamo sempre parlato di diuretici, di beta bloccanti, e in questo caso nella valvulopatia aortica aggiungiamo gli antagonisti del sistema renina-giotensina-aldosterone. Si può fare il cambio della valvola. Comunque diuretici e beta bloccanti. Ricordiamo invece che nelle valvulopatie mitraliche davamo diuretici, davamo beta bloccanti, davamo digossina. La stenosi aortica è un problema invece che consta, epidemiologicamente colpisce pazienti giovani, ma anche pazienti anziani. Giovani sono spesso maschi, hanno una cardiopatia congenita, quindi una bicuspidia aortica o una cardiopatia ipertrofica che dà stenosi sottovalvolare, oppure possiamo avere pazienti anziani che superano i 70 anni, che di solito hanno più una causa degenerativa, quindi l'endocardite e la malattia reumatica sono più rare, mentre la degenerazione calcifica da sola giustifica l'80% dei casi di stenosi aortica. Si ha quindi un aumento del postcarico, che cosa andrà a determinare? Un'ipertrofia ventricolare, questa volta concentrica, con ridotto flusso coronarico, rimodellamento e scompenso cardiaco, perché chiaramente altera anche il rilasciamento cardiaco, ecco perché ne risente anche la vascularizzazione coronarica. I sintomi, lo abbiamo detto prima, sono dispnea, angina pectoris, quindi come la insufficienza, però nella stenosi aortica abbiamo anche la sincope. Ovviamente che cosa avremo come reperto oscultatorio? Il soffio sistolico a diamante, perché ovviamente il cuore pompa il sangue attraverso una strettoia, più è lungo il soffio, più è severa la stenosi, però attenzione che perché i pazienti con scompenso cardiaco, incapacità contrattile del cuore, hanno nuovamente una riduzione del soffio a diamante. L'ECG è importante, anche qui, ipertrofia ventricolare sinistra, voltaggi alti ad esti stirato, la radiografia ci fa vedere un cuore di dimensioni aumentate e ci fa vedere i depositi calcifici, l'ECO è ancora più importante per quanto riguarda soprattutto la valutazione della cardiopatia congenita e soprattutto ipertrofica o bicuspida aortica o placche di calcio. Il paziente sintomatico ha un'aspettativa di vita di 2-3 anni con questa patologia, patologia che può migliorare con terapia farmacologica e interventistica. Al punto di vista farmacologico daremo sempre beta bloccanti e inibitori del sistema renina, angiotensina, aldosterone. Però non è utile fare la somministrazione di diuretici, come invece facevamo per l'insufficienza aortica. Perché? Perché questi pazienti hanno, tra le problematiche abbiamo detto, la sincope. Quindi se noi andiamo anche a renderli ipovolemici, peggioreremo questo quadro. Dal punto di vista della terapia, prendiamo anche in considerazione quella interventistica con sostituzione valvolare e impianto valvolare aortico transcatetere con accesso transfemorale. Quindi agiamo con sostituzione della valvola.